Benvenuti su Fisiosocial, il video di oggi è sulla cervicalgia e il dolore al collo. Che cos'è il dolore al collo, perché viene, quali sono le cause che possono portare questa problematica e anche alcuni consigli per tenerlo sotto controllo. Se ancora non mi conosci, io sono Francesco Lanzini e il mio lavoro è quello di aiutare più persone possibile a vincere i dolori muscoloscheletrici e lo faccio tutti i giorni qui nel nostro centro di Milano tramite le visite che faccio a Brescia e anche tramite i percorsi online. Quindi se vuoi essere seguito personalmente da noi a Milano, a Brescia oppure online trovi tutte le indicazioni nei link qui sotto. Partiamo con il video di oggi. Cervicalgia. Cervicalgia innanzitutto non è una diagnosi, è il riferimento di un sintomo, cioè significa algia a livello cervicale, cioè dolore a livello cervicale. Il dolore cervicale può essere dovuto da tante cause. Tra quelle più comuni troviamo innanzitutto la mancanza di movimento. Infatti tantissime persone che vengono in studio o in consulenza da me hanno dolore al collo perché si muovono pochissimo durante la giornata oppure stanno tante tante ore seduti al computer ad una scrivania. Questo fa sì che la tensione muscolare aumenti perché non ci muoviamo abbastanza se il nostro corpo, visto che il nostro corpo è fatto per muoversi, non ci muoviamo, i muscoli diventano più rigidi e può aumentare anche con la rigidità il dolore a livello cervicale. Un'altra motivazione per cui molto spesso il dolore cervicale o cervicalgia aumenta è la tensione somatizzata. Infatti ci sono tante persone che hanno ansia, stress, depressione, preoccupazioni continue che si vanno a somatizzare in questa zona. Pensate che è stato fatto in un studio che ha dimostrato che addirittura nel 60% dei casi delle cervicalgie tra le cause c'è ansia, stress e preoccupazione. In questi casi è molto importante andare a lavorare oltre che sul dolore muscolare, sui sintomi come gli sbandamenti, nausea, vertigini e così via, anche sulla questione un po' più emotiva, cioè se ci sono delle cause tensive emotive che ci portano ad un aumento di tensione cervicale, è importante andare a lavorare anche dal punto di vista più psicologico. La terza motivazione che comprende tutta la serie di problematiche cervicali, quindi andiamo nelle problematiche un po' più tecniche e patologiche, abbiamo per esempio l'artrosi, abbiamo una ernia per esempio, una degenerazione di scale, ci sono tante problematiche che possono andare a creare un dolore cervicale, queste di certo sono tra le più frequenti, una radicolapatia, della scoliosi, delle problematiche a livello della colonna, quindi un iperlordosi, un ipercifosi che creano un aumento di tensione, tutte queste sono problematiche che possono andare a crearci della tensione, dei problemi e del dolore a livello cervicale. In ogni caso, in tutte queste problematiche, qualunque sia la causa della tua cervicalgia, quello che devi fare è andare a fare un lavoro per migliorare la salute dei tuoi muscoli, facendo questo non sbagli, quindi facendo degli esercizi, esercizi di mobilità, perché tante persone che hanno la cervicalgia, magari anche molto forte, non riescono a fare l'aretro per esempio, quando fanno l'aretro devono muovere il tronco, non possono muovere il collo perché non riescono a fare il movimento di rotazione, oppure di lateroflessione non riescono a estendere, quando uno guarda verso l'alto, Dio, Dio mi gira la testa, cosa posso fare? Quindi, cosa bisogna fare? È chiaro che comunque alcune persone hanno delle limitazioni, quindi per esempio nel caso dell'artrosi c'è un pochino di ruggine, diciamo, tra le varie vertebre, questo fa sì che comunque il movimento non sia mai fluido come una persona che non ha l'artrosi. Però, andando a lavorare dei muscoli, comunque un margine di miglioramento c'è sempre, quindi esercizi di allungamento, esercizi di mobilizzazione, esercizi di rinforzo possono di certo dare una mano, allungamento perché se riusciamo a distendere i muscoli comunque anche la mobilità migliora, rinforzo perché daremo una maggiore circolazione a livello dei muscoli e quindi una maggiore stabilità a livello della colonna e questi sono esercizi che non vengono praticamente quasi mai fatti, esercizi di stabilizzazione, ci sono anche degli esercizi per andare a lavorare sui muscoli degli occhi perché quando ci sono sbandamenti da cervicale anche questi possono essere interessati. Quindi ti mostro due semplici esercizi con i quali puoi cominciare. Partiamo, quindi spalle basse, ok? Quello che devo fare è andare a ruotare più che posso. Quando arrivo al mio limite, ok? Se mi rendo conto che ad un certo punto non riesco più ad andare posso cercare di forzare un pochino con la mano 1-2 secondi e ritorno. Dall'altra parte vado, forzo un pochino e ritorno. Faccio questo esercizio 8 volte per 3 serie. Ti ricordo che nel fare gli esercizi non devi sentire dolore forte, un pochino di fastidio di tensione va benissimo e che se 8 ripetizioni per 3 serie sono troppo poche o troppe puoi anche adattare le ripetizioni al tuo caso perché è sempre importante fare gli esercizi con intelligenza, ok? Esercizio numero 2 è un esercizio di distensione della cervicale. Quindi mi metto in questa posizione da sdraiato. Quello che devo fare è spingere il mio mento verso il basso e avere una distensione della parte posteriore. Vado, distendo bene e rilascio. Distendo bene e rilascio. Distendo e rilascio. Quindi come se dovessi abbassare il mento e distendere la curva della lordosi cervicale come se dovessi raddrizzarla, appiattirla. Questo esercizio 10 volte per 3 serie. Molto bene se soffri di una problematica cervicale sono sicuro che i nostri percorsi specifici possono esserti d'aiuto. Facciamo dei percorsi specifici sulla cervicale quindi trovi qua sotto tutte le informazioni. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto lasciaci un like, un commento iscriviti al nostro canale per supportare il lavoro che tutti i giorni facciamo per aiutare più persone possibili a vincere i dolori muscoloscheletrici. Se vuoi magari un video su una problematica particolare puoi magari scrivermi la tua idea qua sotto nei commenti e magari se è un argomento che pensiamo possa piacere a tante persone magari faremo un video anche su quell'argomento. Molto bene, ci vediamo al prossimo video!